Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi dirò di una storia che avete studiato a scuola. Parleremo di una storia che si chiama la storia di Cristofolo Colombo, l'uomo che scoprì il grande mondo. Sappiamo che il navigatore più famoso della storia svelò agli europei l'esistenza delle Americhe. Nacque nel 1451 a.C. da una famiglia di mercanti tessili. Colombo rimase affascinato dalla vita del mare. Colombo iniziò a studiare molte cartine geografiche perché voleva esplorare nuovi mari inesplorabili. Ma Cristofolo Colombo era un testato perché aveva sbagliato tutti i suoi calcoli. Lui pensava che l'Asia fosse vicino alla sua, invece era quattro volte distanza da lui. Dopo decise di partire con le sue tre caravelle, Nina, Pinta e Santa Maria. Decise di partire inizialmente dal porto di Palos. Il 3 agosto del 1492. Voi sapete che cos'è una caravella? No? Se alcuni che non lo sanno stanno vedendo questo video, pegalo con me. Ecco, questa è una caravella inglese. Una caravella è una di quelle barche con legno più duro di tutte. Pronta a ogni tempesta o viaggio attualmente pericoloso. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Condividetemelo con altri. E se volete posso fare anche un altro video. E ci vediamo qui nel prossimo. Alessandro Channel! E se volete posso fare anche un altro video. Grazie a tutti.